bentornati o benvenuti alla mia serie sul mobbing e sulla violenza psicologica sul posto di lavoro iniziamo con questo video la sezione conclusiva di questa serie ma composta da più di dieci video una sezione che ha a che vedere con qualche strumento per capire più visceralmente il mobbing dopo averlo descritto in modo diciamo formale e anche alcune strategie utili per depurarci dall'inquinamento psichico patito ecco rispetto al fattore come dire terapeutico vi presenterò una metafora la metafora della cellula che sviluppai ormai nel lontano 2010 ora l'idea che la persona affetta da stress occupazionale potesse essere concettualizzata in via metaforica come una cellula è una trovata spero di una certa originalità che appunto sviluppai nel tentativo di illustrare ai pazienti la loro situazione e da essa l'evoluzione positiva che si poteva intraprendere partendo da una fase che a volte sembra essere senza via d'uscita ovviamente non è una formula magica né la taumaturgica panacea che può curare tutti i mali però questa metafora è semplice diretta graficamente immediata e in un solo concetto permette di dare risposte alle domande che mi vengono poste più frequentemente dai pazienti del tipo come posso stare meglio perché ho perso interesse per tutto dopo starò meglio quanto ci metterò a starò meglio alcuni pazienti mi hanno detto devo dire con la mia soddisfazione che non avevano mai visto una rappresentazione della propria condizione più chiara più netta c'è anche chi mi ha consigliato di non rivelare questa metafora diciamo così terapeutica perché poi sarebbe stata copiata se io avessi avuto bisogno poi di usarla ormai diventata di pubblico dominio avrebbe potuto avere meno impatto sul paziente tuttavia se avessi agito seguendo quest'ultimo consiglio non sarei stato migliore per certi versi dei modder che per narcisismo tengono per sé potere ruolo idee cioè uguale a quelle persone dalle quali i pazienti mi hanno chiesto di salvarle diciamo così mi sono detto che se questa metafora stata utile a coloro ai quali era stata mostrata poteva esserlo anche per i lavoratori in difficoltà che non avevo ancora incontrato e che probabilmente mai incontrerò ma che forse potrebbero essere aiutati come dire ad aiutarsi e se ciò significa per me sottrarre una freccia al mio arco va bene perché in fondo il mio lavoro non è cacciare ma produrre archi e frecce e poi credetemi la mia fare tra parecchie altre frecce iniziamo quindi con il dire cosa occorre fare per stare meglio poi tratteremo il come allora partiamo una persona con problemi lavorativi può essere idealmente immaginata come una cellula e come tale ha una membrana esterna e un nucleo in una cellula vera il nucleo contiene il dna cosa bella interessante mentre il nucleo della persona con problemi sul lavoro è il problema lavorativo stesso fra il nucleo e la membrana vi è lo spazio vitale del soggetto che contiene tutte le diverse cose che compongono la vita di una persona quindi moglie mariti fidanzati figli genitori le cose che piacciono che può essere leggere un libro fare sport o guardare la tv io ho indicato cose molto comuni ma voi potete immaginare in quello spazio le cose della vostra vita che più gradite pensando ancora la cellula questi elementi sparsi nello spazio vitale possono essere intesi come mitocondri ovvero quegli organoli contenuti effettivamente nello spazio cellulare la cui funzione è la produzione di energia ora il problema di quel grosso nucleo centrale cioè il problema lavorativo è che esso non è un'invenzione della vostra mente un'allucinazione ma è un fatto concreto in un mondo reale con conseguenze tangibili non che se aveste avuto le allucinazioni sarebbe stata una cosa da poco tuttavia nel caso dello stress occupazionale chi vi può aiutare il senso psicologico io per esempio non è che posso agire in via diretta andando a prendere per il collo il mobber di turno nello sforzo di convincerlo a essere più umano quindi si dovrà agire di sponda operando sullo spazio vitale per sua natura avevamo parlato di polarizzazione del pensiero no in qualche video precedente la per sua natura il problema lavorativo tende a espandersi nella mente del lavoratore andando ad invadere buona parte dello spazio vitale che ricordo va inteso soprattutto come spazio psichico che la persona mette a disposizione degli altri e delle cose che fanno parte della propria esistenza quindi la persona che patisce stress occupazionale non pensa ad altro che al lavoro e parla quasi sempre di lavoro cosa che può in effetti inasprire le relazioni che ha con chi lo circonda il problema di lavoro quindi si diffonde esattamente come farebbe il petrolio che sversasse da una petroliera con una falla nello scafo e a macchia d'olio andrà ad inquinare ogni cosa allora cosa succede accade che gli elementi che per loro natura non c'entrano nulla con il lavoro vengono intaccati dalle negatività psichiche provenienti dallo stress lavorativo il quale esercita ormai una tale pressione mentale che per osmosi ricordiamoci che sembra una metafora cellulare non lo dimentichiamo fa passare il suo contenuto nello spazio vitale dell'individuo quindi se prima ci piaceva leggere libri adesso non abbiamo più voglia di farlo né traiamo più soddisfazione da tale attività lo stesso dicasi del rapporto con il partner e in special modo dei rapporti sessuali la cui frequenza si va progressivamente diradando fino a raggiungere livelli di avversione quasi queste cose non sono connessi in modo diretto con il lavoro anzi in alcuni casi possono essere quasi antitetiche eppure lo stress lavorativo inquinandola riesce a rendere insopportabile ogni cosa come abbiamo già detto nel video relativo alla famiglia i lavoratori genitori spesso iniziano a spaventarsi proprio per la condizione di squilibrio quando l'inquinamento raggiunge le energie prime impiegate per la cura dei figli cosa deve avvenire per ribaltare la situazione non è difficile di complicato c'è solo il nome osmosi inversa occorre in parole semplici fare in modo che i mitocondri riprendano produrre energia cioè deve aumentare la pressione qualità degli elementi contenuti nello spazio vitale affinché sia maggiore di quella esercitata dal dallo stress lavorativo e questo lo vedremo però alla prossima puntata alla prossima